Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Spazio Famiglia, il tema che affronteremo questa settimana riguarda gli spazi abitativi e la famiglia, partendo da una riflessione, ovvero dalla casa comune, così come viene definita da Papa Francesco, nell'enciclica Laudato Si. La puntata di questa sera riprenderà proprio questo documento del Papa, un documento in sei capitoli, che si conclude con due preghiere per la salvaguardia del creato, in cui il Papa sottolinea che non è possibile considerare la natura come qualcosa di separato dall'uomo e dall'ecologia integrale. Non è possibile considerare la natura come qualcosa di separato dall'uomo. È giunto il momento di promuovere un'ecologia integrale che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali, senza asservirsi ai singoli egoismi e agli interessi economici. Parte da questo convincimento, la seconda enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, pubblicata oggi, è presentata nell'Aula Nuova del Sinodo in Vaticano. Il documento prende il titolo dall'invocazione di San Francesco d'Assisi nel Cantico delle Creature, si suddivide in sei capitoli e si conclude con due preghiere per la salvaguardia del creato. Il Pontefice, affrontando una vasta varietà di tematiche, rimarca l'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta, ribadendo che nel mondo tutto è intimamente connesso. È dunque importante che l'essere umano si domandi cosa vuole lasciare alle future generazioni, riscoprendo il valore proprio di ogni creatura, ricercando altri modi di intendere l'economia e il progresso e promuovendo dibattiti sinceri e onesti. I mutamenti climatici, la questione dell'acqua e la tutela delle biodiversità sono questioni che non possono più essere rimandate e i paesi ricchi devono riconoscere di aver accumulato un vero e proprio debito ecologico, un disequilibrio nella creazione divina le cui conseguenze ricadono soprattutto sulle spalle dei paesi poveri. Papa Bergoglio suggerisce così semplici gesti quotidiani per spezzare la logica della violenza, dello sfruttamento e dell'egoismo, condanna le nuove forme di potere che derivano dalla tecnologia e richiama la responsabilità della comunità internazionale perché l'ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente. Il tema della Casa Comune è un tema che poi Papa Francesco riprende anche nella Moris Letizia, ne parleremo proprio tra poco perché dobbiamo salutare anche i nostri amici che sono in collegamento da Genova e allora intanto diamo il nostro buon pomeriggio a Laura Ferrero dalla redazione del Cittadino e presentaci il tuo ospite. Buon pomeriggio Cristina, buon pomeriggio da Genova, un saluto da tutta la redazione del Cittadino. Continua il nostro dialogo con le voci dal forum delle associazioni familiari della Liguria. Vi presento subito il mio ospite di oggi, si tratta dell'architetto Giorgio Tanasini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ecco, l'architetto Tanasini è responsabile della commissione Famiglia e Vita del forum e quindi le chiedo subito quali sono i principali ambiti di competenza della commissione appunto di cui è responsabile. Io sono responsabile della commissione Famiglia e Vita assieme a Paolo Pero. Il nome stesso della commissione dice l'argomento Famiglia e Vita e non c'è famiglia senza casa, non c'è famiglia e casa senza vita, provengo anche dall'associazionismo che si occupa da sempre della vita, della vita nascente, della vita terminale, movimento per la vita, condivido con mia moglie l'attività nel Centro Aiuto della vita e porto il mio contributo tecnico al forum delle associazioni familiari. Ecco proprio grazie al suo impegno, al suo lavoro di architetto, qual è secondo lei appunto l'impegno che la famiglia deve mettere sia come soggetto ma anche come oggetto di una particolare attenzione al tema dell'ecologia che come abbiamo visto da Papa Francesco è stata definita un'ecologia integrale. Io parto da un'osservazione che un po' mi angoscia, è stato fissato dagli tecnici del settore, il 2030 l'anno del punto di non ritorno, cioè l'anno in cui se non si non si è fatto qualcosa, la terra decadrà, andrà a finire. Ma il 2030 è fra 14 anni, questa è una cosa assolutamente sconvolgente per me, perché fra 14 anni che domani i miei nipotini avranno il rischio di avere un ambiente che va a decadere e quindi andranno incontro a una fine sicura, perché noi, i loro nonni, i genitori non abbiamo fatto abbastanza, dobbiamo riuscire a fare qualcosa e quindi molto programmatamente da tecnico, dopo aver sentito le manifestazioni di interesse, crediamo come forum che se non partiamo dalle famiglie, se ogni famiglia non fa qualcosa, una piccola goccia, non daremo quel segnale culturale oltre che pratico, contributo pratico per costringere le amministrazioni a fare qualcosa. Ecco Cristina, siamo partiti quindi da una preoccupazione proprio su questo tema dell'ecologia. Intanto Laura faccio salutare il mio ospite, Raffaele Loiacono, faccio salutare il tuo ospite, perché insomma chiaramente tra i forum c'è un dialogo e c'è anche una conoscenza personale, no Raffaele? Caro Giorgio, ti saluto Raffaele del forum Veltiguglio, giochiamo in famiglia! Come stai? Tutto bene? Bene, grazie! Bene, bene! Bene, allora dopo questo saluto andiamo ad approfondire anche alcuni spunti, tra l'altro come dicevamo Papa Francesco proprio nella Morris Letizia torna a parlare di questo tema dicendo che anche nell'ambiente familiare si possono reimpostare abitudini di consumo proprio per provvedere a quella che viene definita la casa comune, perché la famiglia chiaramente è inserita in un contesto più ampio dell'ambiente, del mondo, della casa comune in cui si vive. La famiglia viene ritenuta direi il soggetto sociale primario, poi viene tutto il resto, per cui la famiglia da che mondo è mondo direi ha messo la natura in grado di servire lei e lei di acudire alla natura. Come diceva prima Giorgio, il problema è che in questi ultimi anni abbiamo sfruttato la natura, la natura si ribella e la situazione che si potrebbe venire a creare nel 2030 è veramente preoccupante. Per fortuna il Signore è risorto, noi crediamo che l'umanità metta giudizio e ponga rimedio perché sicuramente sarà così. Però per fare questo, giustamente come si diceva prima, bisogna iniziare dal piccolo, dal poco, perché non sono le leggi, i provvedimenti, è proprio la famiglia che deve iniziare direi da se stessa a una coscienza di quale valore ha, direi, l'ambiente attorno a sé, cominciando proprio da lei, l'ambiente, la casa, il paese, la città, il rione, quindi è importante sensibilizzare le famiglie su questi valori. Ecco, il Papa parla di famiglia come protagonista di un'ecologia integrale, poi individua due principi base della civiltà umana sulla terra, il principio di comunione e il principio di fecondità. Li indica proprio come due principi sui quali basare questa azione anche volta ad un'attenzione alla casa comune. In quale senso? Beh, io la interpreto così. Per ogni azione valida per l'umanità ci deve essere una comunione orizzontale e verticale, partiamo da quella verticale, se non siamo in comunicazione col datore della vita è come facciamo poi a trasmettere orizzontalmente la vita in tutti i sensi, perché questa ecologia integrale è un'ecologia che è spirituale, morale, sociale, economica e quindi è veramente un'ecologia integrale, cioè non è l'ecologia degli ecologisti che vanno a proteggere il gatto e probabilmente chiudono un occhio quando viene ucciso il bambino nel ventre della madre. Allora la famiglia in comunione trascendente con Dio, fonte della bellezza, dell'armonia, dell'armonia, del creato e in comunione col prossimo può veramente compiere la missione di utilizzare la natura come Dio gli ha dato il compito di utilizzare, altrimenti la stravolge. E poi c'è il termine fecondità, noi pensiamo sempre alla fecondità fisica, cioè ad avere dei figli. La fecondità è una fecondità direi amplissima, è la fecondità della solidarietà, è la fecondità che porta la pace, la serenità, la gioia, la bellezza, tutto ciò che rende direi bella la vita, giusta la vita è fecondità. Quindi la famiglia ha anche oltre al compito di mantenere la comunione quello di essere feconda in una gamma amplissima di valori e di settori. Io girerei la stessa domanda anche a Laura Ferrero e all'architetto Tanasini perché appunto il 2030 è una data che ormai è incalzante, imminente e quindi in che modo in questa prospettiva anche inserire il discorso familiare? Ci sono dei modi molto semplici e concreti. Intanto partiamo da un concetto fondamentale, oggi la cosa più a portata di mano è utilizzare l'energia elettrica, energia elettrica da fonti rinnovabili. Quindi tutte le famiglie consumano energia elettrica, quindi tutte hanno un contratto e quindi possono chiedere, cercare e chiedere al proprio fornitore una fornitura di energia certificata da fonti rinnovabili. C'è a disposizione, ci sono a disposizione delle società che vogliono energia certificata da fonti rinnovabili anche a costi competitivi. Se uno non vuole abbandonare il suo fornitore può chiedere, magari gli costa qualche euro, però questa è una scelta fondamentale. L'importante è che ci si accerti di avere la certificazione rilasciata dal GSE, il gestore dei servizi energetici. Perché purtroppo sotto questo aspetto di energia da fonti rinnovabili e poi dopo se leggiamo la bolletta abbiamo delle percentuali che non sono proprio così confermative della scelta fatta di quello che si paga. Questa è una prima cosa. Poi nella scelta per esempio quando viene la necessità di comprare il motorino per il figlio, perché non andare su un motorino elettrico, perché non usare le biciclette a pedalata assistita e questo vuol dire non consumare carburanti, quindi non inquinare. Esistono delle apparecchiature oggi basate sul principio della pompa di calore, del frigorifero per semplificare le cose, che consumano energia elettrica, quindi consumano come un frigorifero, ma producono acqua calda, quindi non usano gas, fino alle cose un pochino più impegnative, anche se da un punto di investimento credo che siano investimenti vantaggiosi, anche farsi un impianto fotovoltaico. Che è possibile farlo anche in città, in un condominio, perché la norma vigente, il codice civile sul condominio equipara l'impianto fotovoltaico alle parabole, per cui se c'è il diritto di avere l'antenna parabolica c'è anche il diritto di usare gli spazi comuni condominiali per mettere un impianto fotovoltaico a servizio del proprio alloggio, del proprio appartamento. Ecco, Cristina, l'architetto ci ha fatto davvero qualche esempio concreto di come si possa attuare questa ecologia, ma gli chiedo ancora, dal punto di vista del rapporto tra il forum e le istituzioni, a che punto è il dialogo sul tema proprio del piano casa e comunque anche del riscaldamento globale? Abbiamo partecipato come forum al studio della bozza del piano casa, abbiamo prodotto un documento, un articolato che è stato presentato e in piccolissima parte è stato anche adottato. Purtroppo nella sua essenza è stato disatteso, perché il piano casa secondo me era un'occasione magnifica per le famiglie da sfruttare. Il piano casa individua gli edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica e noi abbiamo suggerito di far rientrare in questa categoria anche gli alloggi che come dimensione non fossero più adeguati alla dimensione della famiglia che abita. Chiedevamo che inderoga anche le norme di piano regolatore, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza, delle norme, dei piani di sondabilità, tutte le norme ambientali, paesaggistiche e si potesse riuscire a ampliare il proprio appartamento per adeguarlo alle esigenze della famiglia che si è evoluta. Perché nascono i bambini, perché si prendono in casa gli anziani, i genitori anziani. Ovviamente con delle limitazioni o comunque con delle penalizzazioni se non veniva rispettate le norme previste. Il piano però dal suo punto di vista è stato disatteso? No, non è stato assolutamente accolto, non siamo riusciti ancora a sapere perché questa cosa non è stata raccolta, ma insistiamo anche con altre amministrazioni, questo è stato fatto con la regione, con qualche comune, abbiamo aperto un dialogo per vedere... Di andare avanti, insomma, su questa strada. Ecco Laura, tra l'altro vedevo Raffaele che prendeva appunti perché anche sul tema del discorso energetico volevi aggiungere forse una voce a quelle che appunto ha annunciato l'architetto Tanasini anche. Sì, direi che parlando proprio per esperienza perché come associazioni e famiglie numerose, come associazioni e famiglie del Tiguglio, come forum, volendo direi entrare proprio nel quotidiano, giustamente Giorgio parla di modi nuovi tecnologici per un utilizzo dell'energia più appropriato sul piano ecologico, ma io vedo che con i miei figli e ormai con i miei undici nipoti, visto che ne ho così, il problema sul quale io tento di sensibilizzarli e sensibilizziamo poi le famiglie quando facciamo per esempio scuola per genitori, è in casa si deve imparare a risparmiare energia. Per esempio sul piano domestico il risparmiare non far scorrere l'acqua calda per mezz'ora quando ce l'hai bisogno, dieci minuti, oppure in casa se puoi non accendi tutte le luci in tutti i locali quando ormai è ora di spegnerlo, si fa l'alba, oppure l'altro è utilizzare dei prodotti a basso contenuto energetico, perché faccio l'esempio, il vetro ha un alto contenuto energetico, comprare roba in vetro vuole dire che poi il vetro non lo recuperano, lo buttano via ed è uno sciupio di energia, quindi su questo tema del risparmio energetico credo che ci sia l'altra gamba dell'aspetto energia, da un lato energie nuove, energie alternative a quelle del petrolio e a quella del nucleare possibilmente, ma anche il risparmio energetico, cioè dobbiamo camminare su queste due gambe. E allora visto che un altro argomento che è stato introdotto è quello del piano casa, andiamo a vedere come nella Moris Letizia il Papa parla proprio anche dell'importanza di una abitazione, soprattutto per la costituzione di una nuova famiglia, sentiamo. La mancanza di un'abitazione dignitosa o adeguata porta spesso a rimandare la formalizzazione di una relazione, occorre ricordare che la famiglia ha il diritto ad un'abitazione decente, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita della famiglia e della comunità. Una famiglia e una casa sono due cose che si richiamano a vicenda, questo esempio mostra che dobbiamo insistere sui diritti della famiglia e non solo sui diritti individuali. La famiglia è un bene da cui la società non può prescindere, ma ha bisogno di essere protetta. La difesa di questi diritti è un appello profetico in favore dell'istituzione familiare, la quale deve essere rispettata e difesa da tutte le usurpazioni, soprattutto nel contesto attuale dove solitamente occupa poco spazio nei progetti politici. Le famiglie hanno tra gli altri diritti quello di poter fare assegnamento su un'adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità, nell'ambito giuridico, economico, sociale e fiscale. Ecco, abbiamo visto questa scheda che fa riferimento proprio al paragrafo 44 della Morris Letizia, l'esortazione di Papa Francesco, in cui si dice che una famiglia e una casa sono due cose che si richiamano a vicenda. Ma Raffaele, ti faccio una domanda provocatoria. La famiglia oggi ha ancora bisogno di una casa, visto che gran parte del tempo lo si trascorre fuori di casa per vari motivi? Assolutamente sì, perché noi che crediamo nel valore umano e trascendente della famiglia, chiamiamo la famiglia piccola chiesa domestica. Allora se la chiesa, il corpo mistico di Cristo, ha le cattedrali, ha le chiese, la piccola chiesa domestica, cioè la famiglia, nella sua casa esercita tutto, la regalità, la profezia, il sacerdozio. Per cui è evidente che la casa diventa per la famiglia il suo tempio e deve essere bello, attrattivo, coinvolgente. Che entra in una casa di un cristiano deve vedere la bellezza di Dio, deve sentire l'accoglienza di Gesù. Cioè la casa veramente deve essere adeguata, ma non adeguata soltanto al numero, alle risorse economiche, ai bisogni. Deve essere adeguata al sogno che quella famiglia ha su se stessa. Cioè veramente entrare in una casa di un cristiano vuol dire entrare in un luogo dove uno dice ma guarda come ci si sta bene, ma guarda com'è bella, ma guarda com'è gioiosa. Ecco, Papa Francesco solleva anche un problema perché dice molto spesso la formalizzazione di una relazione viene rimandata proprio a causa della mancanza di una casa. Ed è questo anche, come ascoltavamo prima, uno dei punti sul quale il forum da tanti anni si sta battendo per rendere quindi la casa più, diciamo così, abbordabile da parte di chiunque desideri iniziare una vita familiare. Il forum direi che grida da anni nel deserto. Cioè i politici sono in tutt'altra faccenda affaccendati. Nel senso che come nel 2030 potrebbe esserci la catastrofe di cui parla Giorgio e ha ragione, noi andiamo verso una denatalità per cui quali famiglie ci saranno fra 15-20 anni? Per cui è evidente che questa miopia dei politici nel puntare sulla famiglia perché i destini del mondo si giocano sulla famiglia, il non puntare sulla famiglia, quindi il lavoro, la casa, lo studio, vuol dire proprio dare alla famiglia l'ammazzata finale. Tra poco tempo non ci sarà più la famiglia e neanche il problema di andare a casa. Laura, non so se c'è un intervento da parte vostra oppure comunque una sollicitazione. Sì Cristina, volevo chiedere all'architetto quali sono le iniziative che la Commissione Famiglia e Vita porta avanti proprio per favorire l'inizio di una nuova famiglia, anche l'assegnazione di case per le giovani coppie. Recentemente abbiamo partecipato alle riunioni indette dal Comune di Genova che sta revisionando il regolamento per le delizie residenziali pubbliche e assieme anche all'associazione degli inquilini, ai rappresentanti dei municipi, gridano fortemente il diritto ad avere l'assegnazione delle case a famiglie normali. Purtroppo la realtà è che oggi l'edilizia residenziale pubblica è destinata a delle situazioni di emergenza, persone che sono in arresti domiciliari piuttosto che persone psichiatriche. E questo oltre a occupare degli alloggi fa scappare le persone e le famiglie che abitano vicino, perché sono situazioni che creano disagio, che creano anche un ambiente poco favorevole alla crescita e alla formazione dei bambini. Quindi in questo siamo uniti ad altre associazioni per cercare di raddrizzare questa situazione e cercare anche delle soluzioni per permettere alle pubbliche amministrazioni di finanziare il restauro di troppi appartamenti che sono sfitti perché l'amministrazione non ha i soldi per ristrutturarli e quindi assegnarli. E rimanendo vuoti peggiorano la loro qualità, si degradano ancora di più. E poi quando possiamo cerchiamo sempre di dare dei suggerimenti anche magari già adottati. Per esempio il comune di La Spezia ha adottato una delibera a costo zero per il comune. Cioè la mamma in gravidanza può iscrivere il nascituro nelle liste di ingresso negli asili nido anche prima della nascita. Questo le permette di accorciare anche di sei mesi i tempi di accoglienza del bambino all'asilo nido e quindi permettere alla donna dopo il parto di rientrare prima sul lavoro e quindi permettere di favorire la crescita dei bambini. Quindi questo vuol dire anche una scelta della maternità più serena. Ecco Cristina, l'architetto ci ha dato ancora qualche indicazione proprio concreta del lavoro del forum su questi temi. Ecco, quindi ci salutiamo su questi temi anche con una domanda però quali sono le prossime iniziative del forum? Perché mi sembra che carne al fuoco ce ne sia tanta magari nella concretezza poi le istituzioni benché prima Raffaele dicesse molto spesso il grido del forum è stato inascoltato però non per questo Raffaele bisogna parlare di meno. Il proverbio dice che la goccia scava la roccia e noi continueremo perché prima o poi la verità si farà strada. Quello che noi come forum del Tiguglio in questo momento riteniamo essere importante oltre alle politiche familiari di cui parlava Giorgio e quindi la sensibilizzazione delle amministrazioni comunali è dall'altro lato una presa di coscienza da parte delle famiglie e dei genitori di una serie di problemi tipo questo cioè facciamo in accordo con l'AGE e l'Associazione Genitore di Genova scuole per fargli comprendere il valore delle cose nelle quali crediamo fra le quali anche una buona educazione ecologica di tipo globale. Laura c'è qualcosa da aggiungere? Direi di no, continuiamo a lavorare e cerchiamo via via di affrontare le varie tematiche che ci si presentano. Quindi sì, la fiducia comunque non viene meno insomma si spera sempre in un miglioramento. Cristina io a questo punto ti riderei la linea ringrazio di qua l'architetto Tanasini per essere stati qui con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata con altri membri appunto del Forum Famiglie. Grazie, grazie Laura e a tutta la redazione del Cittadino grazie all'architetto Giorgio Tanasini anche noi dopo questi saluti a distanza da Genova a Chiavari ci salutiamo lasciamoci anche noi Raffaele dall'alto della tua saggezza con una massima diciamo così che dia fiducia e speranza abbiamo parlato del 2030 come la data insomma di una fine inesorabile di quello che è l'aspetto ambientale però dobbiamo avere una speranza e qual è la speranza Raffaele? Cristo è risorto, Cristo è risorto! Siamo nella settimana che ci condurrà verso la festa di San Giuseppe come ormai saprete il 19 marzo è una data particolarmente significativa perché dal 19 marzo del 2021 sino al 26 giugno 2022 il Papa ha indetto un anno speciale dedicato alla famiglia Amoris Letizia e allora in questo cammino di avvicinamento gli uffici per le pastorali familiari della diocesi della regione ecclesiastica Ligure stanno proponendo delle piccole riflessioni incentrate proprio sulla figura di San Giuseppe che viene ricordato nella data del 19 marzo queste riflessioni vengono divulgate attraverso i mezzi social le potete trovare sulla pagina Facebook della pastorale della diocesi di Chiavari della pastorale familiare della diocesi di Chiavari o come potete vedere sul sito diocesi Chiavari slash famiglia la riflessione di questa settimana è sintetica ma significativa da Giuseppe Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro il riferimento è alla Patris Corde il documento che il Papa ha voluto proprio per richiamare la figura di San Giuseppe e l'importanza all'interno della Sacra Famiglia di Nazareth e con questa riflessione ci salutiamo ci diamo appuntamento alla settimana prossima arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti